Tutto pronto per il concerto per la vita che si terrà al Teatro Sociale il 23 di novembre. Sul palco, oltre a Gianni Dall'Aglio, anche la regina della densa anni Ottanta, Ivana Spagna. Un grande evento di solidarietà. L'associazione Amico Rene, che lo organizza, infatti, utilizzerà il ricavato per un importante progetto. Quest'anno, per la prima volta, abbiamo una collaborazione interdisciplinare molto avanzata che non è mai stata fatta prima, cioè sia all'interno dell'ospedale con Amico Rene che all'esterno dell'ospedale con Amico Rene. All'esterno dell'ospedale le farmacie mantovane effettueranno in convenzione gli oltrepressori e Amico Rene ne sosterà i costi. Per i malati renali, per coloro che ancora non sono malati renali ma necessitano di controllo della pressione delle 24 ore in senso preventivo. Dentro l'ospedale, invece, verrà attivato un programma con la nutrizione clinica da parte dei nefrologi per controllare lo stato nutrizionale dei malati renali nei vari stadi di evoluzione, trapiantati compresi. Scopo dell'iniziativa è quello di evitare situazioni di sovrappeso o sottopeso e creare una nutrizione, non una dieta, ma una nutrizione controllata per ottenere il miglior grado di salute. Per questo servirà un apparecchio specifico, che dopo il primo anno di sperimentazione del progetto potrà essere noleggiato o acquistato in base alle richieste. Ma il concerto per la vita sarà anche l'occasione per portare delle testimonianze. Prevediamo una testimonianza di un trapiantato di cui ora non faccio il nome ma non lo farò mai che ha ricevuto il rene dal suo cognato. Per la prima volta nella storia mantovana non è la moglie, non è il fratello, non è un congiunto consanguineo ma è il fratello della moglie. Il cognato ha donato il rene e il paziente trapiantato vorrà testimoniare questo grande atto di donazione e d'amore che gli ha cambiato la vita. La parola d'ordine resta sempre e comunque prevenzione. La prevenzione è fondamentale ma anche per chi deve donare un organo, perché l'organo si dona solo se si è in perfetta salute. Anche per chi non ha previsioni di malattie varie, perché conservare la perfetta salute del rene significa conservare la salute del cuore, la salute della pressione, controllare l'alimentazione e avere comunque un atteggiamento positivo evitando le cattive abitudini che purtroppo molti di noi hanno.